Se si fa non innovazione ma adattamento, il ritorno sul capitale che ci si aspetta dalla ricerca è per forza modesto, uno si adegua per sopravvivere, innovazione è un'altra cosa. Chetenova si sia inserita con decisione negli anticipatori dell'innovazione per il settore della produzione siderurgica, lo si è visto confermare nei giorni scorsi con l'annuncio dell'entrata del gruppo quale membro fondatore nell'ESTEP, la European Steel Technology Platform con l'obiettivo di guidare e orientare il cambiamento insieme ad altri 13 partner della filiera dell'acciaio europea. E per Chetenova la via da percorrere per l'acciaio è quella dell'economia circolare, una siderurgia che andrebbe vista non come un'industria che inquina e sfrutta ma che riutilizza con la minor quantità di risorse energetiche e inquinamento possibile. Crediamo che Chetenova abbia anche le tecnologie per lavorare in questo ambito, ovviamente noi partiamo dall'avere la tecnologia per la produzione diretta, il fatto di produrre con forni elettrici, insomma crediamo di presidiare quello che è il futuro di una siderurgia pulita, vogliamo spingerci oltre, vogliamo capire come questo verrà impattato all'idrogeno, vogliamo capire come anche il free printing, quindi la produzione di polvere metalli che può rivoluzionare il settore, stiamo lavorando in tutte queste direzioni. Non guidiamo da soli, guidiamo insieme agli altri, quindi ascoltiamo anche moltissimo, però vogliamo essere là dove l'industria può diventare un'industria non solo performante ma anche con grandissimo rispetto per l'ambiente, che è la cosa che a noi sta più a cuore. Che una ripresa più o meno sensibile dell'industria siderurgica sia in atto è visibile dai segnali che arrivano dal mercato con domanda sia di nuovi impianti che di revamping, un outlook che si farebbe meno positivo se si guarda al medio e lungo periodo. Se tensioni politiche stanno generando opportunità sui mercati locali, secondo Tenova la nuova capacità generata potrebbe aggravare il problema della sovraccapacità produttiva globale. Siamo da un lato fiduciosi sul fatto che nel breve ci sarà una buona attività, un po' meno fiduciosi nel lungo termine, quindi stiamo comunque cercando di crescere in maniera flessibile, cioè non vorremmo rinseguire il flusso della crescita con necessariamente massicce assunzioni, ma lavorare un po' più in partnership anche con i nostri concorrenti dove questo ha senso per creare un'industria che è capace di seguire la crescita con flessibilità facendo partnership quando serve e non può trovarsi di nuovo con un crollo del mercato da affrontare con gravi anche disagi per le nostre persone. Ne si è esempio ciò che sta avvenendo sul mercato statunitense a causa di dati sull'acciaio e sull'alluminio introdotti dall'amministrazione Trump. Tenova ha investito negli Stati Uniti anche aumentando il numero di addetti e con un'acquisizione nel settore minerario. Onestamente per noi è stato anche molto promettente il 2017 in termini di ordini raccolti in Russia, quindi ci troviamo un po' dal punto di vista geopolitico schiacciati tra due mondi che in questo momento un po' si affrontano anche con sanzioni. L'auspicio è di un ritorno a un dialogo commerciale più disteso. Abbiamo interesse per dove c'è crescita, alcuni produttori russi certamente sono cresciuti il 2017 molto molto bene, quindi ci auguriamo che ci siano meno tensioni in senso generale. Non vogliamo approfittare di un mercato americano, preferiamo approfittare di una crescita globale un po' meno, con meno tensioni sui dazi.